Signori, ciao a tutti e bentornati nella mia run veterana su Borderlands 3 con Flak. Nello scorso episodio abbiamo ripulito tutti i collezionabili che erano presenti a Devil's Razor. Vedete, non abbiamo più sfide, casse rosse prese tutte, siamo tutti a posto. Ci mancano una marea di secondarie. E inoltre dobbiamo tornare un attimo sulla Sanctuary. Perché? Perché l'altra volta, quando ci siamo tornati e abbiamo cambiato l'aspetto, non ho cambiato il nome di Flak. Abbiamo ancora Alienac da quando abbiamo fatto la testa da nave spaziale di Flak. Per cui dobbiamo un pochino cambiarla e mettere un attimo a posto il nome. A parte quello, oggi sarà la giornata delle secondarie. Ci metteremo tutto il tempo a fare le secondarie perché ce ne sono un paio di belle a Devil's Razor. O almeno, sicuramente una è bella. Quindi, andiamo a prendere qua. Andiamo a prendere il nome. E visto che abbiamo fatto a modi samurai, direi di fare Samurak, più o meno. Ci siamo. Magari mettiamo il 4 anche qua. Perfetto. Samurak e Koso mi sembra un'ottima coppia. Bene. Torniamo a Devil's Razor. Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Ok. Allora, io direi di partire dalla quest più bella che abbiamo qua. Neutralità dell'Econet. Che mi è sempre piaciuta molto, come questo. A parte mi piace anche la location. Sto tizio qua che ha il suo bunker qua in mezzo. Che è una figata. Anche soltanto fa dei scherzi dagli amici se non conoscono la mappa o roba del genere. Mettete qua dentro, vi mettete a sparare a loro, cose del genere. Come ci sei arrivato? Che la porta è chiusa? E c'è il passaggio segreto. Io ste cose le adoro. Ma anche nella realtà, eh. Avere il fortino, il bunker segreto così, è wow. Bravo tizio, fai senza parlare. Ok, ma guarda, fai senza parlare, davvero. Non parlare. Allora, prendiamo finalmente la nostra auto che ha... La derapata. Eh sì, finalmente abbiamo la derapata, signori. Anche se l'altra volta era un po' strana, perché non derapava quando doveva, eh, però... Perfetto. E' tempo di fare un po' di pulizia. Allora, Oogtac dovrebbe essere là dietro. Ui. Non c'è esso. E' lo schifo. Eccolo. Certo, bro. C'è lo scudino. Oh, cassa. Non c'avevo neanche guardato. Bello schifo. Ok, dobbiamo fare un bel po' di pulizia adesso. Peccato che siano nove livelli sotto, sti nemici. La mappa purtroppo non è aumentata. Speriamo che le Splinterlands siano di livello più alto. E' un po' triste essere nove livelli sopra. Poi comunque, oh, sta Romance Call è al 32, eh. La Romance Call è col livello giusto. Oh. Skippami tutti sti dialoghi orrendi, per favore. Questo è il classico cringe di Borderlands con dei meme che sono vecchi di due anni quando esce il gioco. Adoro. L'unico vero cringe che posso tollerare. Ok. Ah no, gli devo girare, no? Ok. Oh, Loot Tink. Un Reina. Avevamo già il Reina noi, no? Io mi ricordo che l'avevamo. Secondo me l'ho tipo buttato. Ah no, eccolo qua. Reina al 32. Tu cosa sei? Un Reina al 32. Che fai lo stesso danno. Va bene. Ok. Letteralmente identico. Non mi ricordo anche se delle parti fissono il Reina. Vabbè. Comunque, Reina. Bello che quel Reina lì lo abbiamo ottenuto, non so quanto tempo fa, eh. Sempre al 32. Ma era nell'arena avevamo ottenuto il Reina. Quando abbiamo fatto l'arena. L'arena era a livello. Invece le mappe al resto della storia, no. Secondo me. Com'è quello il problema? Vediamo. Hop. Hanno due di XP ormai. Praticamente saranno le quest a darci l'XP per aumentare di livello. In mezzo non ci posso andare, se no prendo danno. Ok. Penso che non li abbiamo ancora usati oggi. Facciamo un bel colpetto di rack. Boh. Perfetto. E abbiamo fatto tutto la roba. Andiamo a distruggere Hagtag. Ponk. Perfetto. Basso la censura. Bene. Ve l'ho detto che era una bella quest, ne è già finita. Letteralmente è un combattimento di quest'area, ma mi piace troppo in generale i colze. Anche se i dialoghi fanno un po' schifo, ad essere sincero. Però. I meme sono tantissimi. Sono di un cringe, ne è. Una cosa spettacolare. Allora, che arma ci dava questo? Ah. È il cecchino quello hit scan, questo. Interessante. Poi. Allora, una quest facile da fare. Direi di fare Dynasty Dash, intanto che ci siamo. Così ce la leviamo di torno. Ok. Allora. Vediamo un pochino. Potrei andare qua. Poi mi butto giù. Arrivo qua. E poi arrivo in fondo. Ok. Quindi, primo questo. Se non ricordo male, è la casa quella lassù. Mi devo fermare qua, perché se vado più avanti, sparisce. Sperando che non mi spacchino il veicolo o quei cosi. Bene. Corri, 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 corri. Non devo sparare, perché se gli sparo il colpo di rimbalzo mi spacca fuori strada. Ok. Poi. Ah, cavolo, è vero? Devo andare anche laggiù. Allora, il prossimo è laggiù. Ah, è vero. Non ho più... Il mitra. Eh, non di qua. Il prossimo. Ok. Ok, ok, ok. Devo andare fin sopra? Oh, mi as dios. E' normale che non ho preso la quest di Mordecai qua. Sennò era un casino. Scavolavo due quest in un colpo solo. Bravo zitto. Tu guarda la tomba che io torno. Ok, tp su fuori strada. Ok, poi. Da qua faccio un giro intorno e arrivo a questa. Ok. Devo andare qua sopra. Poi devo andare là sopra, dritto per dritto, mi pare. Devo fare tutto il giro. Ah no, devo andarci da qua. Ok, meglio. Aspetta. Andiamo a fare... Non mi ha fatto la curva, interessante. Andiamo qua. Non devo sparare, non devo sparare. Mi spacco il veicolo se mi metto a sparare. Ok, dritto per dritto. Ah, non mi ha fatto un tempo a far lo scatto. Vabbè, cavoli su, se non si vuole far beccare. E l'altro era questo edificio qua, ne? Sì. Vabbè, faccio prima andare a mano. Ah, scompaiono dopo un po' i colpi. Ah, è roba, facciamo. Niente hit scan. E poi... Rolls rest. Perfetto. E... Hop. Ed eccoci qua. Bene. A questo è ripetibile, quindi possiamo bellamente ignorarla adesso. Poi, io direi di fare... Facciamo il cinema o facciamo il vecchiaccio? Dai, facciamo il vecchiaccio che fa scattare da ridere. Allora... Non mi ricordo, forse ci dava un pezzo di veicolo al vecchiaccio. Eccoci qua. Oh, ding, è vero, non abbiamo aperto le casse. Vabbè, diamone cinque. Impressante. Impressante. Questo mi piace già di più. Impressante. E... Vediamo, possiamo comprarci qualcosa? Otto chiavi, sì. Perfetto. Ciao Lizzi! Bella delusione, Quiki. Allora... Eccolo, il vecchiaccio, va. Bene. Andiamo a sbrigare le faccende. Allora, la prima faccenda era dalle fogne? Ah no, laggiù, ok. Ok. Ma che t'ha invitato? Dobbiamo prendergli il latte di formiragno. Mamma mia, lo schifo. Gli altri dove spawnavano? Ok, ne mancano due. Bro. Latte e... Cinque. Wops, è scoppiato il vecchio. Ho fatto un errore, regà, ho sparato al vecchio. Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Colpa mia. Mi ricordavo che fossi immortale, la macchinetta rimaneva un HP, ma credo fosse soltanto una volta finita la missione. Non credo che avesse niente di unico quello di quel veicolo, comunque. Non dovrebbe essere troppo un problema se è morto. Se è morto... Pace, amen. Che dire. Piazze. Non posso sentirmi essere insultato per altri dieci minuti. Sì, è stato un tragicissimo episodio, Lizzie, mi dispiace. Sono dato pure dei soldi extra perché l'ho ammazzato. Bro. Dai, su. Qualcun altro? Uno d'esperienza ci dà. Uno. Ma che tristezza. Vabbè. Nuovo cinema di Pandora, sì, allora. Andiamo ad aiutare Tina e compagnia. Cavolo. Uh, ma qua posso tentare un barren roll? Regà, aspettate un attimo. Ok, non mi ha fatto proprio il barren roll, però mi ha tenuto la carica, non me l'aspettavo. Ah, ok, ti tiene la carica solo per un po'. Non me lo ricordavo questo, interessante. Ok. Andiamo a fare un bel giretto e andiamo. Ah, no, non era Boomtown, era il cinema, dovevo andare dall'altro lato e vabbò. Pace, amen. Allora. I cestini spero che siano quelli lì, sì. Perfetto, non devo andare a faticare troppo. Ok. Buongiorno, se può bucà. Non mi danno XP, è tristissimo. Vabbè, dai, 18, almeno qualcosina ho danno. 18, 21. Sino meglio di prima. Oh. Ok. Meno male che sono spawnati quei polli. Ah, non so, sta prendendo in tempo. Niente, ci riproviamo con quell'altro. Appena va via il ghiaccio. Niente, troppo veloce. Sbagliato, raga. Sbagliatissimo, niente. Ci abbiamo anche questo da provarci, dai. Oh, adesso ce l'ho fatta. Guarda quanto va lontano. Allora. Chi è che cerca di ammazzarsi da solo colpendo il mio impaler? Ditemi un po'. Tu laggiù. Interessante. Allora, vediamo un po'. Che c'era qua sopra? Questo. Me ne so perso uno. Ci ho pensato coso. Molto bene, grande coso. Certo tesoro. Me la guardo pure così in diretta, me la guardo. Niente. Ups. Questo è così dal nulla, decidi non di saltar fuori. Ma io boh, illegale. Ah, per poco non si è eliminato da solo sparandomi. Peccato. Vai. Ah, mi si è rotto. Peccato, ecco perché. Ok, allora. Lampade, lampade, lampade. Uh. Teoria, adesso dovrei poter entrare da sotto se hai aperto la porta, ne? Sì. Yup. L'ora non è lì ad aspettarmi prima, non sono venuti fuori adesso. Casissimo. Va bene. Ok, ritentiamo. Ok, adesso possiamo andare a gustarci il film, allora. Non l'ho neanche mai guardato, adesso sono sinceri, quindi non ne ho idea. Mamma mia, è schifo. Ma è ignobile sta robaccia, regà. This is Sparta. Col green screen, col green screen fatto di legno verde. Notare. Cinemaniaco, mamma mia. Ehm, hop. Mi è perso di vedere un razzo passare. Andrò, facciamo il giro di qua che faccio prima perché riesco a prendere velocità. Ciao, cinecoso. Ok, bro. Qualcuno vuole c'è alcuno. Guarda, dove si corre quello? E non l'ho beccato neanche una volta. Complimenti a me stesso. Adesso l'ho beccato una volta. Buff, stai ancora parlando? Cioè... Ok, Buff. Va bene. Boh, andiamo a fare Boomtown. Buongiorno. Buongiorno. Allora. Devo colpire la bomba con una schiacciata. Ma buono. Colpirò la bomba con una schiacciata. Aieeeh. Sono qua. Vabbè, pace e amen. Andremo nel tunnel, dai. Vai, Briccolo. E non mi ricordo. Qua dentro c'era qualcosa prima che io... Ci sparassi. Dentro non c'era niente, ne? No, ok. Il tunnel si chiude. Sparate un po' le armi ovunque, ma... Finiva lì. Sì. Oh no. Andiamo a salvare la base. Ma questi ci vanno a piedi a Boomtown. Grande Tina. Così ti voglio. Ah, ok. Era qua di fianco a Boomtown. Mi stavo preoccupando. Allora, chi dobbiamo eliminare? Ah, c'è un qualche intruso. Se non ricordo male, forse c'era qualcosa a Boomtown da prendere. No, ma abbiamo preso tutto. Forse era solo una cassa bianca, allora. Ma prego, morde coso, uomo uccello. Buongiorno. Prego, Tina. Ok. Buono. Allora, fatemi andare contro la... Io mi ricordo che c'era qualcosa là in cima. Ma non mi ricordo se era parte di una missione o se c'è effettivamente qualcosa. Non credo che fosse qua. Ah, ok. Non c'era niente. Come l'ho detto. Mi ricordo perché ci facesse fare tutto questo. Forse c'era qualcosa in quella porta, ma... Vabbè. Allora, andiamo a prendere le secondarie, tanto che ci siamo. Ne abbiamo una per personaggio, in teoria. Prendiamo la Amazing Grace. Qua abbiamo l'arma esclusiva di Shiga. Qua abbiamo l'arma esclusiva di Shiga. E Brick non c'è niente. Rip Brick. Allora... Qua c'è la statua... Bloodwing. Da sotto non c'è niente, no? No. Ok. Signori, direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Abbiamo guardato un po' di tutto quello che dovevamo guardare. Quindi direi che ci vediamo nel prossimo episodio. Adesso abbiamo anche sbloccato il TP di Moomtown. Prima di lasciarci, però... Ah, niente. Ci ho sperato. Niente, niente. Vabbè. Ciao.